Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma ti fa sempre di corsa. Buonasera a tutti, speriamo che non faccia effetto l'arsen, questa modalità. No, l'arsen no, perché ha un microfono, quindi siamo certi. Ah, ecco, allora abbiamo risolto alla radice. Buonasera a tutti. Grazie, grazie per darci questa mezz'oretta. Allora, come ti ho detto, avevo piacere, prima cosa ti volevo chiedere, a beneficio degli altri colleghi che non sono presenti, quello che ci diciamo lo posso registrare? Sì, sì, tranquillamente. Allora, come ti ho detto, è capitato più volte a lezione che i ragazzi mi hanno segnalato una loro difficoltà nel cercare di comprendere qual è il ruolo, e quali sono i compiti, quali sono le competenze attese da un ingegnere biomedico in un servizio di ingegneria clinica interno a un'azienda sanitaria, ma data la tua esperienza, anche all'interno di un'azienda di global service, perché te le sei fatte entrambi. Sì, l'ho vista tutto. Ecco, l'hai vista tutto. Allora, se in 5-10 minuti ci dici un po' tu il tuo punto di vista, e poi lasciamo aperto lo spazio per le domande dei ragazzi. Sì, sì, che trovo molto utile, in modo che io cerco anche di orientarmi verso, diciamo... Allora, io mi presento, sono Salvatore Russo, uno che, diciamo, laureando e laureato col professore Pepino, quindi diciamo ormai nel 2004. Ho iniziato l'attività, come diceva il professore, di fatto come un tecnico, diciamo, nel senso che la mia prima esperienza è stata quella che il professore Pepino mi ha gentilmente, con la sua lungimiranza, consentito di vivere con un tirocinio curriculare. All'epoca, diciamo, era un'innovazione, in quanto neanche prevista, nell'ordinamento accademico. E di fatto, diciamo, ho iniziato con, come dire, affiancando un tecnico per le verifiche elettriche e mi sono ritrovato dopo un mese a fare io le verifiche a posto suo, insomma. Diciamo, con, devo dire, l'età, insomma, all'inizio non ho lesinato nessun tipo di, come dire, esperienza, per cui in questa cosa mi è servita molto, perché nonostante, diciamo, come dire, si possa pensare a un'attività di basso profilo, ma ritengo che è da lì che bisogna partire. Questa, ovviamente, è una mia esperienza, quindi, diciamo, non è la Bibbia, però, diciamo, vi racconto quello che è successo a me. Da lì, poi, mi sono occupato di manutenzione e dopo la laurea sono stato reclutato, diciamo, ad una commessa nuova che partiva all'ospedale Monaldi, per conto sempre della società per cui avevo prestato il tirocinio, per cui avevo fatto il tirocinio, ritennero che, diciamo, che avevano bisogno di questa mia figura di coordinamento, delle attività tecniche, per cui ho vissuto, diciamo, i primi anni di questa commessa che partiva nel lontano 2005. lì, presso il Monaldi, e di fatto eravamo una sorta di supporto esterno all'ingegneria clinica, che, insomma, a quell'epoca ancora non esisteva, presso la struttura del Monaldi. Dopodiché, un paio d'anni dopo, sono stato contattato da questa società, che la Hospital Consulting, che aveva sta commessa verso il Cardarelli, e avevano bisogno di questa figura di coordinamento, sia delle risorse tecniche, ma anche amministrative, perché l'appalto che è stato qui fino a, diciamo, pochi mesi fa, era un appalto un po' particolare, perché riguardava un ambito consulenziale, di fatto, con, diciamo, quindi supporto interno all'amministrazione, con gestione delle risorse tecniche per sopralluoghi, per, diciamo, interventi di primo livello, e soprattutto, prevalentemente, supporto ai responsabili amministrativi, quindi funzionari per le procedure, sia legate alla manutenzione che alle acquisizioni. Tutto questo fino al, diciamo, circa 2009, della 19, chiedo scusa, quindi, diciamo, 13 anni circa di questo supporto consulenziale, per cui, nel 2019, sono stato reclutato attraverso una procedura di concorso per dirigente ingegnere biomedico, e il Cardarelli mi ha assunto, collocandomi, diciamo, nel profilo di dirigente ingegnere biomedico. Dal 2019, che, diciamo, prevedeva la mia assunzione presso il Proveditorato, quindi mi sono occupato di, prevalentemente, di procedure di acquisizioni di tecnologie biomediche, oltre a tutto quello che, diciamo, passa attraverso il Proveditorato, faccio un esempio, dal Lavanolo, Etiquette Mensa e quant'altro, fino a, recentemente, fino al 2000, ottobre 2022, ecco, la nuova direzione ha previsto, diciamo, la costituzione, finalmente, dell'OS Ingegneria Clinica, che, in questo momento, nell'attuale atto aziendale, è collocata all'interno dell'ufficio tecnico, quindi, a ottobre, sono stato trasferito all'ufficio tecnico, e mi occupo, quindi, mi hanno dato l'incarico di responsabile della struttura semplice di Ingegneria Clinica, e, di fatto, con questo trasferimento, hanno previsto, anche in deroga, all'attuale atto aziendale vigente, la possibilità, cioè, che debba occuparmi anche delle procedure di evidenza pubblica per le acquisizioni di apparecchiature, quindi, in buona sostanza, quello che facevo prima al Proveditorato, me lo sopportato con me qui sull'ufficio tecnico, quindi l'ufficio tecnico, adesso, nonostante, diciamo, nell'attuale atto aziendale, non preveda l'acquisizione di beni, con questa terra, che c'è stata nella nuova direzione, con la mia venuta, diciamo, si occupa anche di acquisizioni, e, in prospettiva, credo a breve, non so bene quando ancora, il nuovo atto aziendale proposto dalla nuova direzione strategica, ha previsto la prostituzione di un'idea complessa di Ingegneria Clinica, che, chiaramente, compendierà sia la parte, diciamo, del vecchio ufficio tecnico, quindi la manutenzione di apparecchiature, con le acquisizioni di, con le procedure di evidenza pubblica di acquisizioni di apparecchiature. Questo è, brevemente, il mio escursus, diciamo, professionale. Salvatore, allora, io spiego un attimo ai ragazzi per sottolineare il passaggio non marginale del servizio Ingegneria Clinica, da unità operativa semplice, subordinata all'ufficio tecnico, a unità operativa complessa, quindi piena di unità, che siamo al vertice della gerarchia, con autonomia operativa e decisionale sulle procedure che riguardano le apparecchiature biomedicali. In buona sostanza, in questo assetto attuale, diciamo, dipendiamo, dipendo da un direttore di struttura, che è il direttore dell'ufficio tecnico, al quale io devo, diciamo, devo far riferimento per, appunto, le proposte di atti, piuttosto che la redazione, diciamo, di proposte di delibere, di atti di affidamento e quant'altro. E in questa nuova fattispecie che prevede il nuovo atto aziendale, come diceva lei, siamo, diciamo, autonomi, quindi una struttura complessa, diciamo, autonoma, rispetto all'ufficio tecnico, rispetto al proverbi dorato, che da come è stata, diciamo, impostata, diciamo, il manzionario dell'atto aziendale, si occuperà di tutto quello che ha a che fare per l'ecologia e biomedica, quindi dal collaudo fino all'acquisizione, la dismissione e la gestione della manutenzione. Quindi, diciamo, è una svolta abbastanza epocale per la struttura Cantarelli, perché, come vi ho raccontato, diciamo che storicamente c'è sempre stato una sorta di supporto consulenziale esterno al servizio di ingegneria clinica e quindi, in qualche modo, l'amministrazione ha rilevato che, diciamo, la necessità di inglobare questa professionalità al suo interno e di renderle, come dire, strategiche rispetto agli obiettivi che l'azienda si pone di raggiungere. Quindi, per me, ovviamente, è una grossa soddisfazione, un grosso, diciamo, riconoscimento della professione, non tanto della persona, perché è vero che, diciamo, come dire, prevalentemente ho vissuto io questo escluso storico, però in questo momento siamo circa sei ingegneri clinici, diciamo, qui all'ufficio tecnico. Sono stati reclutati altre professionalità, altri colleghi, proprio in vista di questa nuova struttura dell'ingegneria clinica e credo tre colleghi ancora giù al proprietorato che si occupano un po' di quello che, diciamo, noi ancora non facciamo, quindi da parte del laboratorio, piuttosto che dispositivi medici propriamente detti, insomma, e quindi c'è ancora questa sorta di messa a regime un po' dell'assetto aziendale che sicuramente credo che l'intenzione della direzione sia quello, appunto, di definire una struttura, diciamo, autoconsistente, una struttura ben dimensionata che possa gestire questa, potete immaginare, insomma, la mole di attività e di complessità che andiamo a trattare, sia per quanto riguarda la parte tecnica, ma anche la parte amministrativa, quindi, diciamo, nei staff da noi adesso ci sono circa due assistenti amministrativi e un collaboratore amministrativo, quindi un avvocato che, diciamo, fanno già oggi, diciamo, so che l'intendo è tutta la parte amministrativa che chiaramente avendo attribuito a noi come onere per la procedura di evidenza pubblica chiaramente è connessa tutta la parte, diciamo, degli adempimenti amministrativi, quindi di fatto svolgiamo quello che, diciamo, svolge sia il proprietario che l'ufficio tecnico e quanto riguarda le procedure di cara, insomma, giusto per intenderci. Ecco, per dire ai ragazzi che sono giovani che non lo sanno, quando Salvatore ha iniziato, quando ci siamo conosciuti, era uno dei miei studenti, non c'era un ingegnere biomedico all'interno delle aziende sanitarie della campagna, non ce n'era uno, è chiaro. adesso, come vedete, è cambiata l'epoca per cui stiamo parlando, il Cattarelli e la serie che ovviamente siamo ancora lontani da quelli che sono gli standard delle regioni del nord, però ovviamente parliamo di un'altra epoca. Quello che adesso volevo, i ragazzi volevano sapere, voglio dare solo un ordine di grandezza per farvi capire il dimensionamento, noi abbiamo circa mille posti le, il Bambin Gesù ce ne ha, mi pare, non vorrei sbagliarmi, insomma, più o meno sui 600, insomma, lì esiste un servizio che in staff ha circa 24 ingegneri e noi siamo tra noi e il proprietario circa nove, questo per farvi capire quanta strada ancora c'è da fare perché ovviamente la complessità poi della struttura, sicuramente il Bambin Gesù è una struttura di riferimento e forse una delle strutture più importanti nel settore, almeno anche nel nostro settore perché ha fatto scuola insomma perché è un riferimento, però diciamo dovrebbe essere come dire quello a cui tendere come dimensionamento, però siamo ancora un percorso ancora lungo diciamo sotto questo aspetto insomma. Sì. sì, sì. Allora il corso diciamo è abbastanza lungo e complesso però cerco di essere sintetico. Le opportunità nel nostro settore sono le più disparate perché un osservatore che ho io e che parte l'esperienza che ormai più che decennale su tutti i ragazzi che vengono qui a fare tirocino e che poi come dire sono rimasti con me in contatto quindi in qualche modo ho seguito anche il loro percorso professionale. Certo diciamo non tutti poi hanno come dire avuto l'opportunità di svolgere pienamente quello per cui almeno la realtà che hanno vissuto nel tirocino hanno svolto qui però in buona sostanza quello che vi posso assicurare è che l'esperienza fatta in un ambiente non parlo ovviamente del mio ambiente lavorativo ma in generale in una struttura sanitaria dà una diciamo una percezione anche alle società diciamo che lavorano nel settore di aver acquisito una serie di referenze di competenze che poi tornano utili sia per quanto riguarda il periodo di apprendimento nell'inserimento dell'attività che magari vi propongono ma soprattutto per una gestione per i coetti del cliente per cui avendo vissuto all'interno una realtà come quella diciamo dell'azienda sanitaria loro puntano molto su queste professionalità perché chiaramente hanno la possibilità di inserirle quasi immediatamente comunque con una formazione già avviata l'unica cosa che vi dico è che spesso capita che molti colleghi come dire vengono assorbiti in ruoli che non hanno per forza attinenza diretta con il mondo dell'ingegnere clinica prima di tutto bisogna precisare che il biomedico in quanto tale è una sorta di purpurì di varie diciamo competenze per cui quello che io diciamo l'ambito in cui io lavoro è quello dell'ingegnere clinica perché è una branca della biomedica dove si esercita diciamo nelle strutture sanitarie diciamo la professionale dell'ingegnere biomedica quindi il motivo per cui ci chiamiamo clinici è perché di fatto abbiamo un contatto diretto con i clinici appunto e facciamo la interfaccia fra come dire la parte aziendale decisionale e quella sanitaria e quindi l'operatività di queste professioni all'interno delle strutture è un po' come faccio sempre l'esempio fra l'edile e lo strutturista noi siamo un po' una sorta di applicazione nelle strutture sanitarie di quello che è la professionale del biomedico quindi che vuol dire che il biomedico ha delle opportunità anche in altri ambiti oltre quello di cui diciamo come dire è la mia esperienza per cui lo stesso specialist di sala operatoria piuttosto che diciamo chi programma all'interno di aziende che fanno software come dispositivo medico o anche come gestionali sanitari mi viene in mente anche lo stesso diciamo specialista di prodotto diciamo come dire non di sala ma delle grosse multinazionali che fanno diciamo sono delle rappresentanze di produttori fabbricanti di apparecchiature quindi diciamo come dire la molteplicità di queste figure sicuramente diciamo consente di avere grosse opportunità nel mondo del lavoro quindi l'unica cosa come diceva giustamente il professore quello che fa la differenza è come dire l'ottica in cui uno si approccia al mondo del lavoro quindi se vive un'esperienza forte io sono uno dei fautori non fosse altro perché la mia storia diciamo la mia storia professionale viene da là ma ho avuto sentore diciamo concreto nell'esperienza che ho fatto e faccio diciamo ormai da più di 10 anni con i tirocinanti e l'esperienza fatta vissuta in un mondo diretto diciamo nel mondo lavorativo ti dà una referenza e una diciamo una sicurezza diversa rispetto a quella che può essere un'altra strada quella diciamo della semplice formazione accademica insomma quello che vi manca come passaggio è cosa applicare di quello che avete appreso nell'università nel mondo del lavoro questo è un qualcosa che purtroppo diciamo è incomprimibile fa parte della cosiddetta cavetta che tutti dobbiamo fare che stiamo facendo ancora dopo tanti anni anch'io mi ritrovo a rimettermi in gioco ogni volta proprio perché vi ho raccontato che questi cambi queste riorganizzazioni comunque sono sfide con se stessi per cercare di arattarsi a delle nuove situazioni a nuove responsabilità a nuove anche approcci rispetto all'organizzazione aziendale insomma ragazzi avete un'occasione qualcuno vuole venire a fare qualche domanda togliete di dubbio non fate parlare sul momento forse qualcuno che si vuole togliere qualche dubbio adesso ce l'abbiamo no abbiamo dai vieni 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 bravo che hai messo una maglietta bisogna messo pure una maglietta solo per decenza io c'ho pure la maglietta con scritto dietro russo con numero 7 lo senti lo senti con un po' di difficoltà sto cercando di prima prima ha detto che nell'ufficio tecnico ne sono sei volevo sapere per l'ufficio tecnico che cosa si intendesse allora io parlo della mia realtà poi ci sono colleghi che in altre strutture hanno vissuto un percorso diverso diciamo tra cui c'è qualcuno che addirittura è già partito come ingegneria clinica quindi si è costituita diversi anni fa noi qui da Cardarelli abbiamo diciamo una peculiarità legata al fatto che la nostra struttura di ingegneria clinica è sotto diciamo dipende dall'ufficio tecnico l'ufficio tecnico in questa azienda si occupa essenzialmente di manutenzione e di strutture edilizie e impianti quindi in buona sostanza prima della mia venuta quindi prima di ottobre 2022 il gruppo che era già qui di due colleghi insomma due o tre colleghi se non ricordo di preciso si occupava prevalentemente di manutenzione di apparecchiature quindi in pratica gestiva tutto quello che aveva a che fare con gli affidamenti legati e la supervisione degli appalti di manutenzione delle apparecchiature quindi non facevano acquisizioni non facevano programmazione di tecnologie e quindi piani di rinnovo e tutte le attività che ho messo al discorso della gestione del parco tecnologico quindi la mia diciamo il mio riferimento all'ufficio tecnico è per dire che con questo nuovo assetto si sta riempendo di contenuti quella che è la struttura di generica clinica e quello che avviene in tutte le strutture sanitarie cioè che la generica ha diciamo un parco apparecchiature e tecnologie quindi un'altra cosa che mi permetto di suggerirvi è che si sta andando verso quella diciamo quella scelta è diffondere la parte di ingegneria biomedica con quella dell'ICT noi ovviamente in questa struttura a Catelli abbiamo due strutture che sono fra loro separati quindi per gestione dei sistemi informativi per ingegneria clinica però la tendenza che vedo nelle altre aziende soprattutto nel nord Italia anche qui per esempio Napoli 2 ha questa peculiarità di avere un collega ingegnere clinico a capo della struttura di ingegneria clinica e ICT quindi informatica che è un'unica unità operativa di fatto quello che si sta vedendo è un fenomeno che dura penso almeno 6-7 anni è che le nuove tecnologie diciamo le nuove apparecchiature hanno inevitabilmente un impatto sulla rete aziendale e quindi inevitabilmente prevedono debbano prevedere un'infrastruttura gestita con anche l'ottica però di chi mastica i dispositivi medici e di apparecchiature di tecnologie biomediche quindi una cosa di sguardo importante è acquisire questa specializzazione sulle reti adatte insomma quindi la gestione delle reti in sicurezza la cyber security di tutto il mondo attivi che applicato alla parte di dispositivi medici non fosse altro che ultimamente pure questo nuovo indirizzo europeo sulla questione anche del regolamento che si spinge ormai diciamo a dare di fatto che esistono software che devono essere gestiti come se fossero dispositivi medici quindi è un mondo diciamo che è in evoluzione ma che ormai la strada è tracciata quindi un consiglio che vi permetto di darvi è quello di non lesinare eventuali esperienze o comunque competenze e professionalità nell'ambito di CT questo è sicuramente un passaggio chiave non ci siamo parlati siamo altri due clienti acconti mi sente? si 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 avvicina per meglio ok io volevo fare una domanda relativa ok volevo fare una domanda relativa invece alla strada dello specialist di saloperatoria che lei prima ha citato ma siccome è una strada che mi interesserebbe è sufficiente la formazione ovvero la laurea magistrale in ingegneria clinica oppure poi bisogna integrare la propria formazione con altri corsi e quant'altro guarda allora purtroppo sono contaminato dalla mia esperienza quindi posso portare solo il mio punto di vista quello che ho visto perché ci sono una serie di miei ex idrocinanti che poi sono finiti a fare i specialist di saloperatori quello che ho visto apprezzare da parte delle società che cercano questo tipo di professionalità di ruolo è che chi ha vissuto già che ha respirato già l'area delle camere operatorie della rianimazione di tutti quei posti dove lo specialist opera quindi la sala emodinamica piuttosto che la sala di interventistica vascolare chi ha già avuto un'esperienza di come dire vissuto concreto quindi sul posto sul campo in queste realtà viene chiaramente per esperienza viene apprezzato molto di più rispetto a un altro che magari ha finito la laurea e magari si è messo a cercare lavoro questo lo dico ripeto non soltanto per sponsorizzare la questione di tirocini ma perché ho visto che date alla mano ve lo posso dimostrare chi fa il tirocino con queste finalità ha una marcia in più la formazione specifica dell'attività di sala del collega che va in sala operatoria ad assistere alla parte medica è un qualcosa che tendenzialmente le società stesse ti mettono a disposizione perché ognuna ha la sua peculiarità legata al prodotto legata al tipo di organizzazione societaria e al tipo di supporto che dà al cliente quindi sulla parte propriamente operativa non ho grossa difficoltà a dire che non è preoccupante perché tanto gli strumenti li fornisce la società che ti assume quello che ripeto apprezzano di più è sicuramente il fatto che tu hai già vissuto quel tipo di ambiente quel tipo di dinamica quel tipo di realtà per cui devono fare meno difficoltà per inserirti per farti inserire poi è chiaro che ti faranno affiancare da qualcuno più esperto almeno nella fase iniziale ripeto per esempio c'è un amico dilucinante che è andato a lavorare per una società che si chiama Alcon che fa impianti di corne in sala operatoria quindi aveva fatto la tesi sull'attack di ultima generazione questo per dire a volte i percorsi sono i più strambi oppure un'altra dilucinante che aveva fatto la tesi su un iniettore di ultima generazione alla fine è stata assunta da un competitor diciamo di questa società che fa i iniettori su cui aveva fatto la tesi questo per dire a volte le dinamiche sono le più disparate per cui le stesse società soprattutto se hanno come dire dei cercatori di teste con una grossa esperienza puntano a persone che chiaramente hanno già avuto un'esperienza diretta nel settore o comunque nel campo per diciamo appunto velocizza anche il periodo di inserimento per loro è un grosso costo è un grosso costo e qui deve essere contenuto al minimo e quindi se hanno una risorsa che è già di fatto tendenzialmente formata devono soltanto impiegare il tempo necessario per specializzarla insomma in buona sostanza quindi sicuramente sì per quanto riguarda le competenze che si acquisiscono con il percorso di laurea quello che manca è l'esperienza poi sul campo che chiaramente ripeto ognuno può farla come meglio crede voglio dire questi tirocini di cui parlano non è solo con le strutture sanitarie si possono fare anche con le società stesse cioè quindi con tutte le società che hanno una convenzione con l'università si può tranquillamente chiedere di fare il tirocino c'è anche una domanda da parte di salve volevo chiedere salve per poter entrare a lavorare negli ospedali è necessario fare i concorsi cioè sono obbligatori oppure no ecco allora per essere assunti dalle strutture sanitarie assolutamente sì bisogna fare i concorsi per collaborare esistono le più svariate modalità una di queste ve l'ho raccontata con la mia esperienza che è una società con la quale lavoravo che aveva un appalto di servizi con la società con un'azienda ospedaliera e di fatto era una risorsa della società di presidio quindi ero qui diciamo come se fossi un dipendente però non lo ero perché di fatto ero dipendente della società di consulenza però il fatto stesso di essere qui in presenza tutti i santi giorni chiaramente mi ha fatto percepire sia a me ma anche lato cliente come un soggetto facente parte della struttura in qualche modo quindi è chiaro che diciamo il rapporto di subordinazione avviene attraverso un contratto quindi per essere dipendenti in un'azienda sanitaria bisogna essere vincitori di concorso e assunti attraverso quella modalità per quanto riguarda invece l'esperienza che uno può fare all'interno delle strutture ovviamente ripeto può essere attraverso i canali più svariati per cui quella sicuramente è una modalità di servizi per esempio quelle che sono affidatari di servizi di global service quindi di manutenzione su apparecchiature per esempio qui abbiamo una società che si è giudicata alla gara regionale che ha un collega che fa un legioniere che fa il coordinatore di commesse responsabile di commesse e mi pare di dare un altro paio che fanno diciamo attività di collaudo e manutenzione programmata quindi diciamo anche quel tipo di figura diciamo per quanto riguarda i sociali servizi è sicuramente un'opportunità che è presente nel settore e che soprattutto per i giovani sta avendo per me pure lo è stato quindi diciamo è una modalità abbastanza consolidata quella di essere assunti da società di servizi per poi eventualmente acquisire competenze e giocarsele nell'ambito per esempio di un concorso un'altra vale altre due realtà però sono un po' più personali quindi se non volerete insomma è necessario essere iscritti all'album no vabbè siamo anche registrati quindi devo stare attento a quello che ha scritto dato che mi piacerebbe fare il lavoro che fa lei lei è iscritta all'albo degli ingegneri clinici c'è l'obbligo di iscriversi ecco allora questa è una tematica abbastanza spinosa diciamo allora all'interno dell'albo degli ingegneri non c'è un albo specifico o meglio si sta provando ormai da qualche anno il CNA quindi il Comitato Nazionale Ingegneri che è l'organo che gestisce a livello nazionale tutti gli ordini provinciali sta provando a introdurre questa sorta di elenco diciamo di specialità quindi qualche cosa sta provando a qualificare la nostra figura professionale come nel resto avviene in tutte le cose in Italia diciamo l'intenzione è buona e lo strumento è completamente sballato faccio un esempio questo elenco diciamo che è stato costituito presso il CNA prevede paradossalmente che ci sia un'iscrizione quindi una certificazione automatica per chi ha la laurea specialistica o magistrale in ingegneria clinica biomedica insomma tutti i vecchi colleghi come me diciamo che vengono dal vecchio ordinamento nonostante abbiano decine e decine anni di esperienza devono sottostare una serie di verifiche dei requisiti che nessun problema crea se non il fatto che quando vado a leggere quali sono questi requisiti da dimostrare ci sono delle attività più svariate quindi c'è direzione lavori progettazione comunque se lo vedete sul sito del CNI dove c'è Certinge si chiama questa certificazione che ha introdotto il Comitato Nazionale di Ingegneri la cosa dicevo paradossale quindi il commento che facevo sullo strumento sballato è che a questo punto sfido e questo mi dico anche al professor Pepino secondo lei è possibile che un neuroaleato abbia esperienza in direzione lavori in progettazione in gestione di appalti pubblici cioè il paradosso è proprio questo che si dà diciamo un'automatica certificazione al neuroaleato e si chiede invece a chi ha l'esperienza nel settore di dimostrare di avere esperienza questo meccanismo che diciamo è solo probabilmente legato alla carta ma non al vero spessore professionale forse è da correggere questo perché la finalità è auspicabile cioè quella di specializzare le nostre figure professionali noi abbiamo per esempio un'associazione della quale faccio parte che ingloba tra gli iscritti gli ingegneri clinici però è cambiato status da poco è diventata un'associazione scientifica però di fatto non è l'ordine professionale che ha uno status è un ente pubblico completamente diverso dall'associazionismo insomma per intenderci quindi la cosa che forse andrebbe fatta tutti insieme è cercare di portare l'attenzione del CNA che la nostra professione come dire riveste una qualifica ben specifica che non può essere associata diciamo a tutta quella che sono gli ambiti delle altre ingegnerie insomma per intenderci ok l'ultima questa è ancora più personale è necessario cioè per entrare a fare questi lavori è necessario avere una votazione di laurea magistrale alta cioè un voto di laurea molto alto oppure no perché insomma una volta mi dissero se prendi un voto basso non lavori ma allora io ti parlo della mia esperienza io ho preso 103 alla laurea quindi non credo di essere diciamo uno di quelli particolarmente come dire da segnalare diciamo sotto questo aspetto però ti assicuro che diciamo come dire il lavoro di tesi che il professore diciamo confermerà è stato per me un lavoro molto pesante da un punto di vista come dire proprio di impegno che ci ho messo e l'ho vissuta giusto per fare un esempio pratico visto che me lo chiedi il mio lavoro di tesi era sulla ventilazione meccanica artificiale l'ho vissuta nella reanimazione del monalto cioè quello che era il mio studio sulle macchine che gestiscono la respirazione artificiale poi l'ho vissuta vedendo le macchine in funzione e questo mi ha dato un contributo al lavoro stesso con un punto di vista particolarmente come dire interessante sull'oggetto del lavoro di tesi questo lo dico perché probabilmente quello che conviene fare è approfondire le questioni vivendole in prima persona quindi più che il voto accademico diciamo che peccata io personalmente ho partecipato a varie sedute di laurea dei miei tirocinanti che mi hanno inserito come correlatore e devo dire la verità sono tutti stati sempre molto bravi insomma hanno preso 110 qualcuno anche 110 e lode però quello fa parte più del percorso accademico legato a una valutazione di tipo accademico quello che ha dato a loro il plus per la votazione finale della tesi che ho visto nella commissione essere molto apprezzato poi il professore mi confermerà o meno questa sensazione è che il completamento di questo lavoro di tesi era in qualche modo stato vissuto in prima persona cioè con un coinvolgimento anche personale nelle attività che sono state svolte quindi si percepiva cioè la commissione percepiva che nell'esporre questo lavoro c'era stato un coinvolgimento diretto ed era una padronanza diciamo molto molto endemica dell'argomento perché era vissuto fino in fondo in maniera approfondita in maniera diciamo diretta questa è l'esperienza che vi posso portare grazie le passo la prossima salve allora una domanda un po' particolare ad articolare nel senso da come abbiamo capito il tirocinio è il primo approccio lavorativo in un certo senso ci darà poi c'è lo sbocco futuro però nel momento in cui cioè almeno dal mio lato dal lato degli studenti è difficile per me associare la materia magari c'è l'esame con il relativo professore a quello che effettivamente farei scegliendo un tirocino con quella persona oppure un relativo a un altro professore cioè come dovrei fare secondo lei a scegliere l'anno prossimo quale strada anche cioè nonostante io devi chiare su quello che dovrei fare in futuro però come faccio a scegliere il tirocino in base a determinate cose future non so se mi sono spiegata però diciamo a vedere se ho capito diciamo risponditi così vediamo se ho capito allora questo poi chiaramente è un confronto che farete più col professore Pepino però da quello che ricordo io essenzialmente il tuo tutor di tirocino non è per forza il tuo correlatore di tesi il tuo correlatore di tesi quindi tendenzialmente tendenzialmente la tua esperienza di tirocino è la tua esperienza di tirocino quindi se tu hai affinità con diciamo la materia che magari ha svolto il professore ti è particolarmente piaciuta e per cui ritieni che sia da approfondire sotto l'aspetto operativo pratico ovviamente diciamo il tuo tutor di tirocino è quello che ti consentirà ti suggerirà quali sono le possibilità che in quel momento ti offre la sua ete di contatti diciamo perché come il professor Pepino il contatto è rimasto perché c'è una parte una stima personale e professionale ma c'è una volontà di entrambi di portare diciamo un contributo formativo diciamo serio da un punto di vista pratico che è la parte che tendenzialmente manca all'università quindi per quanto riguarda diciamo la questione tirocino secondo me diciamo un posto che c'è gente c'è due diciamo ex studenti che addirittura me li sono trovati nella stanza perché erano venuti a chiedere diciamo se c'era possibilità di fare tirocino quindi la modalità è quella più disparata non c'è una procedura standard credo mentre il discorso della tesi è un po' più come dire legato al rapporto diretto personale con il tuo potenziale relatore di tesi perché deve essere coerente con gli argomenti che tu hai in qualche modo sviscerato con il corso di studi insomma quindi con quell'esame e anche lì diciamo tendenzialmente statisticamente coincidono sempre più o meno le due figure ma è semplicemente perché chiaramente tu sei orientato verso già una scelta di relatore quindi in qualche modo il tuo relatore può essere tranquillamente il tuo tutor di tirocino insomma il tuo tutor universitario però dal mio punto di vista diciamo più che l'argomento in sé di tirocino è più la finalità come spesso ci siamo trovati a discutere con il professor Bevino cosa tu vuoi da questa tua esperienza che diciamo stai chiedendo di fare cioè se vuoi vivere un'esperienza pratica se vuoi vivere un'esperienza ad esempio nel mio caso come sa bene anche il professor Bevino su questo ci siamo trovati spesso in sintonia chiedo diciamo dei requisiti di partecipazione molto pesanti dal punto di vista di come dire di adesione al tirocino al progetto di tirocino perché ritengo che se uno fa la scelta di fare un tirocino extra media perché ha la volontà di vivere un'esperienza lavorativa come dire propriamente detta per cui è vero che non c'è un rapporto subordinato è vero che non c'è un contratto è vero che non ci sono degli oneri però la mia impostazione di tirocino è vivere a tutti gli effetti un rapporto di collaborazione che simuli in maniera pesante il lavoro il rapporto di lavoro per cui spesso con molti vostri colleghi studenti ci siamo ritrovati che alla fine del colloquio loro stessi mi dicevano no no allora se è così non sono interessato e io ero contento perché avevo ottenuto il risultato di non come dire illudere le persone che magari venivano qua perché dovevano fare queste ore di tirocinio e farsi firmare il libretto e arrivederci cioè non è questo il mio concetto di tirocinio il mio concetto di tirocinio è i tre tirocinanti che ho adesso qui da me uno di questi si lavorerà penso a fine mese si è talmente integrato uno dei primi casi che mi è capitato in maniera esplicita che devo essere io a dire ma loro stessi quando vogliamo farla perché si è talmente integrato che quasi non se ne vuole andare insomma dall'ufficio ho dovuto sollecitare io per mettere in piedi il suo lavoro di tesi perché diciamo lo posticipava sempre la speranza di rimanere ancora un po' però ovviamente poi c'è una responsabilità anche da parte mia il fatto che l'obiettivo è che bisogna lavorarsi quindi ognuno ciascuno di noi può avere la possibilità di trovare la sua strada quindi è un ragazzo molto in gamba però diciamo questo non deve assolutamente vedere le sue opportunità quindi questo per dire cioè si parte con se può sembrare come tutte le cose pesante dei vincoli duro quello che volete però dopo vedo che gli stessi studenti sono estremamente contenti e hanno anche la soddisfazione di trovare diciamo una collocazione proprio in virtù di questa referenza c'è penso colloqui di lavoro come raccontavo qualche tempo fa un incontro che ci fece fare il professore Pepino ho statisticamente un feedback altamente positivo dai colloqui perché quando diciamo nelle referenze spiegano come è stato l'esperienza di Tocinio interlocutori dall'altro lato sono assolutamente ben contenti e diciamo colpiti dal fatto che di fatto è un'esperienza lavorativa quindi la fanno passare come se fosse una referenza di un lavoro già svolto in precedenza giusto per essere pratici spero di essere stato diciamo come dire chiaro anche se purtroppo il fatto di non vedervi per me mi fa sentire quasi vabbè se capiterà capiterà un'altra qualche altra occasione sì volentieri volentieri se baristana è confessionale per cui io parlo però sei stato sei stato estremamente estremamente utile e ci siamo tutti quanti riconoscenti e poi ci rimane una pizza o qualcosa va bene con piacere un abbraccio ciao caro un saluto a tutti e un caro augurio di ottime cose per il futuro ciao buona serata